C'è qualcuno che sta esplodendo in questa sala Sono accolgiatissimo come quando sono suonato alla Rolling Stone Va bene Questo è un letto Ok, portafogli Grazie a tutti 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 Ukyo Katayama Grazie a tutti 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 Io vi che era dubbista E' un'efficaccia, non è spiegato lì e mi fai da coincidenza Noi corti dentro dai, a gente che si persa E' un'efficaccia Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti